Padre Kusmarianto, tu sei in Indonesia. Ci racconti un po' prima della tua vita, che cosa hai fatto e che cosa fai, poi ci racconti anche un po' della provincia. Noi siamo tre dei Dejoniani, cioè ci sono anche mio fratello minore, ci sono due che fanno sacerdote nel Sacro Cuore. Sono laureato del Gregoriana nel 2004 e laureato sulla bioetica, per questo io sono professore della bioetica nel nostro istituto per i studenti, ma anche professore della bioetica nell'Università Statale a Yogyakarta, nella Facoltà della Medicina. Ma anche sul governo, lavoro anche nel Ministero della Sanità e della Ricerca. Io sono anche membro del Comitato Nazionale per la Bioetica. Fai un sacco di cose, insomma. Sì, perché devo lavorare anche per gli ospedali, perché ci sono tanti ospedali cattolici che hanno bisogno di me per mettere le cose secondo la bioetica cristiana, diciamo così. Senti, tu sei delegato della provincia indonesiana. Ci racconti un po' della provincia, intanto com'è fatta, perché molti di noi non sanno non meno dov'è l'Indonesia. Eh sì, l'Indonesia è solo nell'Asia, quello vicino del Singapur. Indonesia è sotto il sud del Singapur. Penso che voi tutti conoscete, no? Singapur. Ma noi, i deoniani in Indonesia adesso stanno cresciuti molto bene. Adesso i membri cercano 170 così, 75 qualcosa così. Quanti abitanti fa tutta l'Indonesia? In Indonesia adesso sono 320 mila. Sono tanti. Ci sono 170 religiosi deoniani in questo momento. Sì, ci sono 170 religiosi deoniani. Anche sta crescendo, perché per esempio adesso in uffici sono 16, i postulanti sono 10 e quelli che vengono per la prossima postulante sono 13. E' una delle province in crescita, al contrario di quelle europee. Cosa ti aspetti da questo capitolo? Io aspetto moltissimo, perché da questo capitolo vorrei avere una linea guidata per il futuro, perché il futuro non è così facile. Per questo si deve mettere insieme le congregazioni, si possono andare avanti con la certezza.